La promozione della famiglia nell'attuale contesto socio-culturale, l'accoglienza dei profughi, così come pure il conflitto in Siria e la situazione umanitaria nell'Ucraina e nel Medio Oriente. Sono stati i temi al centro dell'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il primo ministro della Repubblica di Polonia. Nel corso dei cordiali colloqui, rende noto la Sala Stampa Vaticana, si è fatto anche riferimento alla visita che il Santo Padre compirà nel Paese nel prossimo mese di luglio in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù e alle recenti celebrazioni per il 1050esimo anniversario del Battesimo della Polonia, alle quali ha partecipato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, in qualità di legato pontificio.